Possiamo vederlo, possiamo vedere il nuovo ufficial gameplay trailer Sicuramente sarà un qualcosa di assurdo Mi aspetto grandi cose da questo gameplay Anche perché dalla copertina ragazzi, cioè Sembrava veramente una hit Dai facciamo questa gloriosa reaction a EA Sports FC24 Due secondi e poi andiamo a fare la nostra live Trailer di presentazione del gioco ufficiale EA Sports FC24, FIFA 24 fatto da EA anche se non è FIFA Siamo ready, non so cosa aspettarmi onestamente Perché mi guardi così? Cioè tutti si muovono e lei no? Ragazzi ma cos'è Ronaldinho? Ma cos'è Anquetà? Sembra che gli stanno puntando una pistola Cioè ma che cos'è? Ma che brutta! Vabbè Come scusa? Ciao! Nuova animazione per le finte di tiro con la sua lata? Falcio femminile non ci interessa Falcio femminile non ci interessa Se i earl sono divisi Non possono giocare insieme uomo e donna Ma non per cattiveria Non perché siamo più forti In realtà si Non perché siamo diversi Ma perché c'è proprio un distacco fisico Non può mettere Che schi ragazzi era una merda Già me l'immagino Questa qui Marta Icon che sposta Vieira prime moments di fisico Nonono Ho Sveskio Brugge Sveski Brugge 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 Doe Doe Sveski Brugge E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale all'anno scorso Sì vabbè che cazzo è un super tè del pallone Ma che è Se lo preordini ti dà l'iro garantito a novembre Quando già non saranno più utilizzabili Sette giorni di accesso Ah è con Nike Ok Nike Ultimate Team Campagna long player Ok Nike per gli eSports Ok non è più Adidas Vabbè una cosa Secondo te è giusto che in un gioco Mettano insieme uomini e donne a giocare a calcio? Cioè ci sarà un motivo se nella vita reale sono divisi? Allora è intrigante Intrigante questo trailer Ci dà un botto di spunti Ok questa roba devo ammetterlo Questa roba è figa Questa roba ci sta perché è successo Irl E quindi lo rifai così Ma penso che lo possa fare solo Haaland Arbarra i difensori Se fa una roba del genere in partita Benicio solo Gli staccano le gambe dal corpo Ecco tipo sta roba Come fai a capire? Cioè si animerà A parte che questo è zaniolo Ma poi come cazzo fai a Cioè tu fai una skill E si scriptano i difensori Che tu non la puoi prendere con questa skill Cazzo utilissime le animazioni Dopo che para la palla Dove gli fanno Oh grande donnarumma Sì 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 Molto utile Scusate ma non riesco a non ridere Cioè non A me mi sembra che i giocatori Si muovono uguale Cioè voi Hypermotion 5, 6, 10 Quello che cazzo è ma Sto tiro è stranissimo però vabbè Saranno impegnati un po' Sanno Si aspetta il gioco della FIFA Però vabbè nel mentre Penso che me lo daranno Da provare Cioè sono già in lista in teoria E non so neanche se potrei dirlo Però vi farò sapere nel caso Tanto andrà su YouTube questa Vi farò sapere nel caso Qualcosina sul gameplay Se lo proverò It's really impressive A near 2 minute gameplay trailer With a half a second Of actual gameplay Assolutamente sì FIFA 17 looks amazing Can't wait for settembre Magari FIFA 17 Beh non c'è tanto gameplay Effettivamente Cioè queste sono tutte Cioè non penso che siano Real footage di gameplay Quest Tutti tipo Cazzin Animate bene Per carità però Adesso ancora stare fatto Dalla faccia di Ronaldinho Guarda Saka Sembra che si cacca Questo non è Pelé No 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 Questo non è Pelé Questo non è Pelé Ma che cazzo Non è Pelé Poi hanno tolto Pirlo È vero Chiesa sembra me Alle foto delle elementari Guardagli la faccia Ma che cazzo è Ma Saka è orrendo Pelé è Taco Fall Pelé è Shaquille O'Neill Quanto cazzo è alto Più de Haaland Guarda Zidane Guarda l'animazione Del piede Della gamba sinistra Vabbè Non so cosa aspettarmi Speriamo bene Non so cos'altro dire Guarda Vlaovic Ma che vuol dire Guarda Vlaovic Perché è uscito Un trailer della Juve Joel Joel di The Last of Us Pretonali Sto rabbrividendo 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 Sto rabbrividendo